Ancora nessuna traccia del ragazzo tedesco scomparso sul Gran Sasso. Levin Weythuschat, 25 anni, studente di scienze forestali a Padova, era a Roma da qualche mese per un tirocinio universitario insieme ad un gruppo di colleghi quando sabato scorso ha deciso di venire in Abruzzo per un'escursione in solitaria sul versante aquilano del Gran Sasso. Le ultime notizie risalgono al 10 agosto, quando il 25enne ha inviato una foto del paesaggio montano tramite la piattaforma Snapchat sia ad un amico sia alla famiglia residente in Germania. Da quel momento in poi di Levin non si è saputo più nulla. Una coppia romana oggi ha riferito alle autorità di averlo incontrato nel pomeriggio di quel sabato 10 agosto sul Monte Camicia. Il ragazzo parla correntemente inglese, ha i capelli un po' lunghi, castani, occhi marroni, è alto 1,87 m, magro e muscoloso, solitamente ha un piercing a forma di anello a naso. Al momento della scomparsa, con ogni probabilità, indossava un pile di colore blu e di un impermeabile blu marca Patagonia. I vigili del fuoco del comando dell'Aquila, con i colleghi di Teramo in supporto, insieme alle squadre di volontari di protezione civile, sono tuttora impegnati nelle ricerche. L'unità di coordinamento è stata posizionata a fonte vetica.